Settimana scorsa abbiamo parlato di alcuni errori che si fanno spesso quando si investe in dividendi ma non ci sono solo quelli, ci sono anche gli errori che si fanno quando si investe, punto e basta per cui oggi ne vediamo altri 5 che ho fatto anch'io perché sono quello che sono e vediamo quali non fare più, puliamo il computer poi Bentornati, investire sui mercati finanziari è veramente una cosa difficile a volte è semplice ma a volte ce l'ho, si complica la vita e si va a complicare le cose facendo degli errori che sono dettati più da una scarsa conoscenza che non dalla volontà di farli o a volte semplicemente dal fatto di circondarsi di persone che non abbiano proprio tanta conoscenza ma vogliono insegnare pur non sapendo oggi ti voglio dire i 5 errori che ho fatto che tu non dovresti fare perché se no ci perdi soldi come ho fatto io e quindi partiamo uno degli errori che ho fatto spessissimo all'inizio è cambiare broker in continuazione cambiare broker ha delle problematiche connesse molto importanti perché delle volte si tende a cambiare perché si va ad avere più magari strumenti disponibili, si va a pagare meno le commissioni si va ad avere una gestione delle grafici o dei report maggiore e più dettagliata ma ne vale veramente la pena? ce lo siamo mai chiesto se ne vale veramente la pena? una cosa che capita quando si cambia continuamente broker è il fatto che si vanno a perdere si va a perdere della connettività, si va a perdere della continuità nei propri investimenti ci si ritrova ad avere dei valori che variano di volta in volta magari trasferendo da un broker all'altro i nostri investimenti o se magari sono in regime dichiarativo bisogna rifare tutti i calcoli perché si è chiuso uno e si va dall'altro semplicemente perché si vuole avere tutto l'ultimo modello magari avere un broker che ci dà tutto ma se quel tutto non ci serve ne vale veramente la pena? poi è una questione anche di tassazione se si va a chiudere delle posizioni su un broker per aprirlo su un altro inevitabilmente si vanno a creare delle minusvalenze o delle plusvalenze quindi sono tasse magari da pagare inoltre si pagano delle commissioni di vendita dei prodotti e se segui questo canale sei come me che magari ha un orizzonte di investimento a lungo termine ovviamente è una scarsa attenzione a quello che effettivamente è il lungo termine e ha l'effetto palla di neve dell'interesse composto inoltre utilizzando sempre lo stesso broker si va a costruire una certa non dico fiducia ma quasi un contatto col broker nel senso che lo si conosce sempre più approfonditamente e si va a capire anche come utilizzarlo in maniera opportuna per effettuare le proprie operazioni senza per questo andare a cercare oppure a essere nel rischio di creare delle problematiche degli errori durante l'investimento per cui non saltate di palo in frasca sceglietevi un broker che va bene alle vostre esigenze se siete investitori a lungo termine non conta con quale broker siate a meno che non abbiate bisogno di ulteriori prodotti in quel caso sceglietene uno e tenetevelo non fate come me un altro problema che ho fatto in passato e che fortunatamente non faccio più è quello di cambiare continuamente strategia e i dividendi e l'accumulazione e solo ETF e solo azioni e poi ci metto le obbligazioni ma perché non le opzioni ma voi state seguendo la vostra strategia avete cominciato un piano di investimento basato su quello che vorrete ottenere fra 10, 15, 20, 30 anni 5 mesi, 2 mesi non importa seguitelo alla lettera perché altrimenti creerete problemi come dicono in inglese disruption alla vostra strategia di investimento al vostro interesse composto e se non creerete solo problemi su quello che sono i rendimenti effettivi alla fine questo perché anche se non esiste una strategia infallibile perfetta esiste una strategia che si adatta al meglio ad ognuno di noi e una volta che l'abbiamo pianificata e programmata per i nostri investimenti è per quello che il nostro progetto futuro la dovremmo seguire alla lettera fino a che non cambino le esigenze di investimento a quel punto si può variare la strategia ma solo in determinate condizioni il terzo punto è un vantaggio o uno svantaggio un errore o un non errore utilizzare un conto demo da un certo punto di vista è un'ottima cosa perché si evitano errori di valutazione si va a imparare bene come si utilizza il broker si vanno a imparare bene quali sono gli strumenti nei quali si vuole investire però anche del conto demo non bisogna abusarne perché a un certo punto si perde la connessione con la realtà pensare di poter utilizzare un conto demo da un milione di dollari come con Interactive Broker e fare investimenti qua e là e sentirsi dei geni semplicemente perché si è fatto profitto non va ad includere tutta quella dinamica della emotività che è quella che fa perdere soldi la finanza comportamentale è quello che veramente conta nel mondo degli investimenti perché come dice Warren Buffett it's not rocket science non state progettando dei razzi che devono andare sulla luna state gestendo i vostri soldi e una volta che avete imparato come farlo una volta che avete deciso gli strumenti una volta che avete pianificato la vostra strategia ecco a quel punto non essendo rocket science non avete bisogno di utilizzare più un conto demo avete bisogno voi di essere il vostro conto demo fare degli errori a volte perdere qualche soldino vi aiuta a formarvi come investitore come persona sì proprio non ci sta bene perdere soldi a nessuno piace perdere ma vi posso assicurare che fare un errore per una mancata attenzione sui vostri soldi vi aiuta a essere più attenti in futuro il conto demo serve? sì va utilizzato tantissimo? no a meno che non vogliate testare delle strategie ma in quel caso si tratta di trading e non si tratta di gente che va a investire come noi su questo canale seguire il branco seguire le mode e questo lo abbiamo visto durante la pandemia quando investivano tutti in Bed Bath & Beyond in Tattoo Chef aziende create da nulla e che sono finite nell'oblio nuovamente bisogna non seguire le mode come ho detto all'inizio bisogna seguire le proprie strategie se la vostra strategia è puntare su aziende growth se la vostra strategia è puntare su startup se la vostra strategia è puntare su etf altamente diversificati seguite quella non buttatevi nelle mode se proprio volete buttarvi in una moda tra virgolette nel senso in un'azienda che potrebbe avere veramente una crescita futura importante fate in modo che quell'investimento almeno se avete un capitale piccolo non sia una parte preponderante del portafoglio ma organizzate il vostro portafoglio la vostra allocazione in maniera tale che se quell'azienda va a fare un per venti un per cento vi fa guadagnare ma se va a fare uno zero non vi fa perdere il rapporto rischio rendimento deve essere sempre ben proporzionato all'interno di un portafoglio e quindi seguire la moda seguire la classica GameStop del momento ha arricchito chi in quel momento ci ha investito ma è stato un rischio quel pump up e dump che è stato fatto in quel periodo poteva non funzionare e tutti potevano perdere soldi per cui investire in maniera diversificata ma non emotiva aiuta tantissimo a guadagnare tanti soldi nel futuro e questo errore l'ho fatto fortunatamente sono stato fortunato e fortunatamente mi sono accorto che ero un errore investito in quel modo e non ci ho perso soldi ma la gocciolina di sudore come nei cartoni animati giapponesi mi è scesa dopo che l'ho capito non farti scendere la gocciolina non farti perdere i tuoi soldini un ultimo punto che viene molto spinto da alcuni è quello del guardare i costi quanto mi costa fare un'operazione su Fineco quanto mi costa farla su Direkta quanto mi costa farla su BG Saxo qual è il tear di quell'ETF a mio parere sono dei discorsi che trovano il tempo che trovano in una parte non totalmente perché ovviamente guardare le commissioni costi di un ETF va fatto ma puntare solo su quello per scegliere un prodotto secondo me non è la scelta opportuna perché bisogna guardare alla qualità del prodotto per esempio se un prodotto avesse una scarsa massa sotto gestione in ETF e avesse uno spread molto alto sicuramente paghereste magari meno di tear ma vi ritrovereste con uno spread talmente alto che vi costa di più comprare quella posizione e poi se investite per il lungo termine e fate un acquisto all'anno di un ETF oppure fate un acquisto al mese quei costi secondo voi possono portarvi veramente a dei impatti importanti non dico che non possono farlo ma dovete calcolarlo prima e non dire siccome investire con Fineco mi costa 9 euro l'operazione per un ETF non è detto che questo vi porta dei problemi negativi se voi fate quell'investimento 10.000 euro oggi e non investite più nel senso è l'unica operazione che fate invece se fate un pack un'operazione ogni mese a quel punto uno va a guardare i pack gratuiti di diretta va a guardare BG Sacks o che ti permette di fare un investimento con 1,50 euro ci sta però va tutto impostato in base a quello che è il vostro modo di investire la vostra strategia per cui non guardate i costi come un qualcosa che deve essere la parte reale dei vostri investimenti ma devono essere un corollario che va pianificato e gestito in base a quello che è il vostro modo di investire il modo in cui investite in un determinato strumento diciamo che la vera regola dell'investimento è quello di riuscire a trovare il giusto bilanciamento tra le vostre esigenze tra quello che è il vostro capitale e ovviamente sull'obiettivo che volete raggiungere alla fine non c'è una ricetta per tutti non c'è una ricetta giusta c'è una ricetta quella importante quella di iscriversi al canale se magari volete supportarmi in questi contenuti e supportarmi in altri modi che vedete qui di fianco e magari lasciatemi un commento qui sotto se avete fatto errori del genere o se pensate che lo stavate facendo e io vi ho salvato un po' in calcio d'angolo o se ci siete andati vicino e nel caso aveste fatto questi errori avete perso soldi vi è costata cara fatelo sapere nei commenti qui sotto e ricordatevi come sempre che vi voglio tanto bene e noi ci vediamo a un prossimo video a presto a presto